Di Donato, palla dentro per Donnarumma e poi il fallo da rigore commesso proprio dall'entrato Prestia ed è calcio di rigore per il Città, il quattordicesimo in campo da 40 secondi subito un pasticcio per il centrocampista, scusate per il difensore rivediamo un po' il numero di Donnarumma, sì sì, braccio largo di Prestia può professare tutta l'innocenza che vuole, però questo è il rigore sacro santo la sombrera, un movimento scomposto, aumenta